Coach Delmati, quali sono le prime impressioni da questa prima amichevole in campo contro una squadra avversaria? Sì, sono molto positive, sinceramente devo dire che la ragazza mi ha approcciato bene questa simile amichevole che abbiamo fatto dei giochi a punteggi un po' speciali, un po' particolari. Devo dire che abbiamo avuto un ottimo atteggiamento, ma anche della qualità, sicuramente nella fase di side-out, sicuramente, poi in qualche situazione magari di fase di contrattacco, di break, su pall'alta, possiamo sicuramente migliorare, ma è normale, questa è la prima uscita. Inoltre c'è stata a mio avviso un'ottima risposta anche da parte delle ragazze più giovani, che sono anche penso un po' emozionate da queste prime uscite, anche se sono amichevole. Devo dire che da un punto di vista proprio del modo di stare in campo e del provare a fare le cose su cui abbiamo lavorato, che in queste quattro, tre settimane e mezzo, che per loro sono un po' nuove, devo dire che sono state brave in questo. Il feeling tra le ragazze si sente anche da bordo campo, perché è proprio visibile, possiamo dire che sono un bel gruppo. Sì, devo dire che hanno iniziato, siamo ancora all'inizio, però hanno iniziato bene, sicuramente abbiamo mantenuto un gruppo la scorsa stagione che ha accolto e sta da un certo punto di vista indirizzando e raccontando quello che è questa società, questa squadra e anche i nostri tifosi che erano anche oggi qua con noi, come hai visto. E quindi penso che anche questo aiuti tutti a integrarsi velocemente, a entrare nella mentalità che l'EPM Pallavolo dà alle sue squadre come valore, come modo di comportamento, al di là poi dei risultati. E allora noi facciamo i nostri migliori auguri per il campionato che inizia il 7 ottobre e ci vedremo a bordo campo. Vi aspetto a tutti, grazie a voi.